Sempre io. Allora la prima ricetta che vi faccio vedere con la zucca è la ricetta degli gnocchi di zucca. Allora io la zucca l'ho preparata, devo aspettare che cuoce quell'altra. Ci vanno 6-700 grammi zucca, potete mettere sotto anche la farina come volete. Questo è un pezzetto di uscio che lo togliamo e 150 grammi di farina di semola e altrettanti di farina normale tipo zero. Allora nella ricetta originale ci vorrebbe del semolino di riso però normalmente non ce l'ha a casa molta gente. Per cui ho sostituito la farina di riso con la semola di grano duro. Adesso impastiamo. Allora cuocendola al forno, come faccio io per tutte le preparazioni, vi renderete conto che la zucca viene abbastanza soda. C'è chi dice di mettere un filo d'olio nella cottura della zucca in forno. Io non lo metto perché non ce n'è bisogno, la zucca deve perdere acqua, non accumulare. Allora ripeto, 150 grammi di farina tipo zero, io non uso mai la zero zero e 150 grammi di semola di grano di grano di grano. Il pastè per un momento. di grano di grano di Grazie. Allora, adesso la zucca contiene parecchia acqua, quindi l'impasto è di 150 grammi di farina, però il tagliere dovete sempre tenerlo infarenato. E' così, allora, che è così, che è di considerazione, è così. La zucca ovviamente essendo piena d'acqua porta a usare parecchia farina. Allora, io adesso comincio a formare i miei occhi. Prendo un pezzetto. Ora, io ho preparato i vassoi con la carta da forno. Metterò farina anche lì, perché altrimenti i vassoi sarebbero da buttare via, perché si attaccano, dopo non riuscite più a usare. Potete farli più grandi, più piccoli, più volete. Por conta che se hanno infarenato. Adesso non vi faccio vedere tutta la pasta, però un gnocchi normale, come quello di patate. Grazie. 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 Vanno ben infarinati, perché altrimenti non riuscite a tirarli. Nell'impasto me l'ho messo meno farina possibile, però se volete essere più certi che la pasta venga. e che sia soprattutto più facile da rigare. Scusate, ma io continuo a non essere abituato a parlare intanto che lavoro. Se li volete un po' più sodio aggiungete un po' di farina. Però sapranno un po' più di farina, ovviamente. Delicatamente, perché ovviamente si spappolano. Io li comerò con dei champignons passati nell'olio con un pezzetto di cipolla. La consistenza è leggermente più magra di quelle dei gnocchi di patate. Quelle dovete essere un minimo più delicate. In cottura dovete mettere un filo d'olio nell'acqua, così siete sicuri che non si attacchino gli uni agli altri. Ok. Ok. Ecco, qui dovete usare tutta la vostra delicatezza, adesso lo sto facendo velocemente per cui mi viene uno differente dall'altro però ripeto la ricetta 6-700 grammi di zucca passata al forno come vi ho fatto vedere 150 grammi di farina normale e 150 grammi o di semolina di riso o di semola di grano dura è uguale quello che preferite ce ne vengono per quattro persone abbondanti però sono buoni anche il giorno dopo gli occhi di patate il giorno dopo non sono buoni, questi si sono buoni sono buoni sono buoni sono buoni sono buoni non sono buoni adesso ho Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 La zucca è piena di acqua e poi dopo passeremo alla cottura. Adesso mettiamo giù gli gnocchi. L'acqua è già salata, ho già messo l'olio. Adesso ho fermato un attimo la bollitura, però come vedete è bulla ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. la bollitura, lo spostiamo. Ecco qua, guardate, non sono attaccato. E non rovesciandolo abbiamo evitato la farina che dopo addensa l'acqua e si impasta tutto. vedete? Vedete? Sono venuti bene. E non si attaccano anche grazie all'olio che abbiamo messo dentro. Adesso aspettiamo che cocciono. Adesso aspettiamo che cocciono. non ho messo ne brodo né niente perché i fondi fanno molta acqua per conto loro. Adesso dobbiamo solo aspettare. Adesso vado a prendere una farvietta e intanto riposare lì. Ripeto, questo è un primo abbondante per quattro persone. Appunto accendiamo questo che è già grande, però non mantengo caldo. e ho preparato il farligiano gratturato. Poi dopo se ne volete aggiungere nei piatti singoli lo fate, però con una spolverata che si scioglie ci sta bene. Questa è una salta pasta, è estremamente comodo perché ci sta sia condimento, adesso io oggi ho esagerato perché così lo vedete bene. Con metà è sufficiente. Con 250 grammi di champignon ancora da pulire direi che basta. Cominciamo a salire. Se rovesciate, quando avete fatto i gnocchi di patate, se vi rovesciate dal vassoio direttamente, la metà farina dopo prendono il sapore. Invece così ci vuole un attimo, è abbastanza scomodo in realtà però. Alla fine l'acqua è pulita e non è piena di amido. Con metà. Alla fine non scoraggiatevi se quando li fate li sentite molto teneri perché quando li mettete nell'acqua non si stiscono sono passati 4 minuti guardate che meraviglia anche i colori i colori dell'antuno non si stiscono allora adesso va a mescolare magari ce n'è rimasto uno sotto o anche no grazie spero vi dimenticate ok Una bella porzione su cui mettere un po' di parmigiano grattugiato al momento perché è sempre meglio perché è più fresco! Buona serata e buon appetito!